Mi permetterò di interromperti quando arriveranno aggiornamenti della gara femminile perché anche qui ci avviciniamo al gran finale. Pietro Arese, cosa hai visto? Beh, bellissimo seguire la gara così diretta diciamo e i primi chilometri sono stati all'insegna di molti cambi di ritmo da parte dei vari atleti che erano molto in più di testa per provare a scramare.